I numeri da mettere in evidenza sono 2,9 milioni e meno 34,6%. Stiamo parlando delle attivazioni di rapporti di lavoro delle aziende private extraagricole nel primo semestre del 2020 e della variazione, purtroppo in negativo, rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. A fornire questi dati, la prima edizione del rapporto La domanda di lavoro per bacini dei centri per l'impiego, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Ampal Servizi, che analizza la dinamica del mercato del lavoro dalla prospettiva di CPI. La contrazione di cui si parlava riguarda tutta Italia, anche se a soffrire di più sono le grandi città e i piccoli centri a forte vocazione turistica. Un altro numero da tenere presente è quello relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro, che complice probabilmente il blocco dei licenziamenti, si sono limitati a 2,6 milioni contro le 3,5 milioni del primo semestre del 2019.